ma cosa stiamo aspettando ah ma sono male di aspettare qualcuno che passava a darti 5 euro 5 euro? ma guarda qua boh in moto si sta bene così sto bene però qua così saremo caldo spero che quando gli ansi ci sia questo è l'accento ottani tanto la cazza è di vero neanche 2 litri faccio praticamente a 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 Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. 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 a tutti.